signori signori bentornati bentornati prima di tutto che qui siamo su bioshock e quindi ecco con lo zio di nì buonasera buonasera aspetta io comincio a saltare alla scala principale immagino se non ricordo male ci dovrebbe essere il proseguio delle missioni di lì mi sa che vai dalla parte giusta o sbagliata non me lo ricordo sì però io sì 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 no sbagliata deve andare alla parte opposta allora come faccio scusi sì sì no giusta no perché l'obiettivo lì perché la scala può cercare da tutte le parti vabbè vista secondo me prima o poi ci perderemo delle cose comunque a pure di fare sempre più grande il tutto e dovrebbe essere finalmente un po di spiegazione eccolo lì che si è aperto lo vedi avvicinati pure il quadrittico il suo capolavoro sembra giusto toccalo non aver paura si capolavoro di ok il capo dell'obiettivo è quello di trovare prego baletta ah scusa vedi guarda la prima foto che tu hai messo era quella dentro il teatro tu dovrai fotografare tutti questi personaggioni questi maggetti che troverai ne mancano tre quindi ma ste balestre per completare la tua opera io ora giuro che non ricordo poi dovremmo avere il codice per entrare qui andrei di nuovo alle porte chiuse quindi o quella ghiacciata o girerei un po ovunque qua piccola falena eccolo lì sono aperte però io metterei prima cosa il fuoco e toglierei la balestra sinceramente ma perché poi mi ha dato una balestra va bene non me lo ricordo però è significato sicuramente la balestra al napalm posso usare prova usare il napalm per sciogliere le cose perché quindi da sciogliere se ne tanto hai amici chi o vede il tuo respiro quindi il buco al lupo a per il mio soldi a sinistra c'è qualcosa da prendere pulca come hai fatto a sapere che era lì l'ho intravisto che erano cose per balestra perché mi è messo stavo bruciando vabbè vediamo un po qui c'è tanto ghiaccio sciogli prova a sciogliere con il napalm questo ghiaccio tutto montone qui si scioglie perfetto non riesce a utilizzare il live anche quella parete di lì forse a sinistra c'è una parete lei non può vedere la via tutto è ciò che tutto ciò che tu non puoi vedere qual è che espressioni sto come dire mostrando ma no immagino ciò che ciò che ciò che ciò che ciò che ciò a bello io non lo voglio più sciogliere questo più vicino le pare alle colonne ciò di tutto ho sciolto un tizio sciogli sciogli ma gli ho liberato ma gli ho liberato e ma non l'ho ucciso non l'ho ritornerà figurati allora no non lo voglio salvare ma devi fargli le foto ecco cos'è sono diventato di ghiaccio yes e guarda che arriva cosa per caricare l'arma magari potessi sparare ora puoi tranquillo ok sciogli sciogli ma aia aia ciccio 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 eh devi caricare il kit medico eh ok dove vito e aggiustarti fotografo al corpo di pigeon anga credo che tu abbia già ucciso è uno di questi credo eccolo eccolo era d'oro era d'oro cerca campo cine a nuovo tonico criocinetico lancia i tuoi nemici al freddo con campo criocinetico si vedrà dopo eh allora qui è una stanza vuota bellissimo bellissimo della neve a destra della neve a sinistra aspetta 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 vediamo di mettere il napalm allora qui c'è questo vediamo qua non c'è però c'è una montagnola di acqua c'è roba quello che dovessi tu lo fai sciogliere esplode pensavo fosse il napalm che potessi usare cioè le ricariche invece no c'era anche una casa bello ora ora però qui c'è tu qui c'è tu è infatti lui diceva però prima di andare a riportare la foto non so se poi vuoi portare tutti insieme non mi ricordo sinceramente dai una foto gliela portiamo gli diamo la foto così contento si si rilassa anche un po è caro come cavolo ti chiami come si chiamava non mi ricordo poverino non ha più un nome ah ma io ho finito il napalm e allora mettilo via dai scendi giù aspetta aspetta su qua no scendi giù mette la foto atlas amico del popolo è un suono di big daddy tranquillo metti la foto hai ragione hai ragione duplice triplice ricombinante ragno ancora butta fuori era ma d'aus nuovo livello raggiunto bonosi di ricerca butta fuori aumento del danno i butta fuori sono vulnerabili ai proiettili perforietti aiuto mi ha beccato un altro ancora ma che bella foto che fa mamma mia questa è bellissima sta foto scusi no ma non finiamo più sorellina adesso ricombinante raggio di preso si nuovo tonico energia alimentare 3 l'ultimo ritrovato della linea nella linea energia alimentare per rendere il cibo ancora più buono provalo oggi ma che me frega a me di renderlo più buono tanto li uccide lui questa infatti e fa tutto lui ci pensa big o finché vengono le foto tu farlo c'è ancora una che ho fatto sì dai sì nuovo tonico forza vai qui c'è qualcosa che dovrò fare comunque quando il tuo versario usa forza brutta come puoi pensare di sconficherlo in combattimento ma naturalmente installando il nuovo forza brutta 2 che non lo sapere non rimanere indietro esatto cambia oggi stesso cambia forza brutta 2 il plus basta basta ok adesso metti la foto metti la foto si va bene va bene va bene va bene perfetto regalo 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 ma quanto sei simpatico e ramadanici wow benissimo adesso aspetta che ti dia l'obiettivo nuovo ma io credo che tu debba vuoi provare a venderti un po di adamo ma perchè devi farlo incazzare perchè mi fa ridere quando si incazza ma se lo ghiaccio vuoi affrontare big dead allora aspetta vediamo allora vediamo un po scusami è un po che non affronti big dead dai ci ci vuole biggy sei pronto io non so neanche cosa ti sto sparando contro tutto quello che ho ti sto sparando è a metà 4 finito credo di aver finito aspetta eh aspetta cosa prendo ah non è vero no gli mancava un pezzetto gli mancava un pezzetto non è vero prima morte della giornata ricarichiamo sto robo qua non ho più allora dove è finito dove 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 vieni qui vieni qui biggy 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 hai preso una strada sconosciuta biggy è andato a quel paese allora lei dov'è salva triangolo non ti preoccupare non ti preoccupare allora un po di adame è stato preso quindi prego non c'è di che aspetta ascolta un orsetto è pre c'è un orsetto regalo vicino sopra vicino a quello che della banca genetica di come si chiama l'adamsim e dove sarebbe entra di la un pare ecco lì no adesso a sinistra entra destra ecco di qua così dovrebbe essere di qui allora la adama il regalo è e va bene quando si leva scusi ah aspetti lei non si muove un uomo e butta fuori 2 la vendetta c no dai come ci spetta aspetta aspetta se ti devi ecco no 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 ma che ma non ti preoccupare faccio delle bellissime foto a prendere il regalo prendiamoci il regalo secondo me devi proseguire lungo la città di adam nuovo tonico scassinatore uno dei prodotti più popolare di hack smart scassinatore ti permette di avere accesso a luoghi dove non sei gradito ricombina ricombinati ora e comincia ad aggirare a quindi rigiugge le difficoltà però già qui a che rapido questo è scassinatore a che rapido fa riduce la velocità di di frutto di flusso quando giri prova a sostituirlo con a che rapido poi eventualmente a che viva per vigile invece due piastre sovraccarico in meno quando giri cioè facciamo questo ok adesso i 400 vedi di adams puoi prendere qualcosa con 420 di adams e posso prendere o un tonico di slot ti servirebbero un sacco di roba che non puoi usare perché non hai di slot liberi e che slot prende un po di slot questi a parte gli plasmidi allora slot per ok questo prova inserirci qualcosa poi a non me lo fa inserire già no allora devo prendere slot tonico fisico seleziona un tonico viene allora posso mettere lo slot va bene niente non me lo fa è andata così oggi o il miglioramento salute anche e è però è vabbè tanto poi farò fuori l'altro no ma si lo plasmide anche per anche lo slot plasmide così è completato di slot ma è sì facciamo lo slot plasmide pure perché quello più usi di più ecco adesso perfetto a tirare le cose di sicure no ma che figata poi puoi cambiarlo se vuoi allora però io volevo banca g allora la banca genetica ho bisogno adesso dunque mi sembrava di sì è tanto nuovo obiettivo non c'è devi proseguire lungo quello del ghiaccio ti ricordi dove la porta riacciata siamo tornati a destra bene c'è una potenza mamma mia mamma mia che potente allora scusami vabbè io ogni tanto mi perdo mentre gioco allora qua ecco genetica banca banca genetica no qui ha già fatto tutto ci hanno già pensato loro si ti ha già inserito cose nuove però poi puoi decidere di spostarlo infatti è già cambiato una devi scegliere ah ok aspetta perché sennò io ho questo riduce difficoltà quando giri robot e telecamere però questo mi serve relativamente hacker esperto quando già incontri una piastra allarme in meno esperto allarmi due piastre allarme in meno quando giri hacker rapido a ecco questo questo che mi serve allora quindi mettiamo un po posto le cose allora aspetta è questo non lascerei stare che già ce l'ho e aspetta nelle quattro di vera no perché è questa brutta così si guarda guarda aspetta perfetto i plus cioè i plus e 4 e poi anche questo dovevo mettere a posto questo però no va bene così perché non hanno il dinamismo che cos'è ti muovi ti agiti la chiave inglese non mi serve fuga sicura il terreno di sicurezza impegnano più impiegano più tempo a vederti iv ad 2 cioè anche una grande quantità di vivere che non è male quando sei immobile diventi invisibile attivo direi quello bellissimo e poi esamini i corpi o contenitori cerca più volte quest'anno i plasmidi consumano meno iv questo se anche questo va bene qui attenzione no cambia anche l'ultimo che cosa fa l'ho cambiato il primo il primo in alto che nei 5 hai messo quello che aggira però ce ne sono anche altre possibilità o basta no perché quello se non sbaglio quando sviluppare quello del ghiaccio deve entrare nella porta ghiacciata qui non c'era in giro la cosa per curare no niente va bene limite non mi pare aspetti è come cazzo si fai direi fuoco se decisamente allora guarderei lo stesso a sinistra se c'è qualcuno di nuovo no niente la premessa è ottima e devo dire che è schiattato vabbè due di nata entra pure nella porta nuova mi sto incastrando allora vediamo cosa c'è perché qui non lo ricordo proprio non allora vediamo un attimo qua ma si è baggato un po il gioco cosa vabbè ecco ma c'è un'ambiente abbastanza l'amato enorme allora va bene armi ragno in alto due ragni in alto ma non muoiono un colpo è seccato mamma mia ancora ecco lì la eccolo no mancato e questo è duro è sparali sparali niente a pop giuda o basta quello big daddy sei tranquillo non ti fa niente se non lo provo che e ora decidio per piano basso non per me piano alto porco giuda ma io qui ancora un po che continuo cioè continuo a trovare cose alla fine perché diventa divento invisibile se sto fermo me l'ho dimenticato questa cosa ora poi puoi o girare ecco questo è importante scusa proiettivi per metra allora quindi si può andare le stanze laterali un sacco di roba allora vediamo cominciamo da qua magari allora però scusi un secondo stop one moment torno subito eccomi che succede c'era nella vetrina c'era della roba da prendere però se spacchi probabilmente scatta l'allarme quindi in fondo c'è un po di roba scusami ma non era che se sto fermo non mi vedono prova da girarlo hai la palla per aggirarli c'è ragione si è girato il cervello è rotta la vetrina nel frattempo arca strata a me sembra che non hai girato una massa via 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 nooo via via bene siamo morti vabbè sono anche morto mentre lei tenta di spaccare il vetro con la chiave inglese perché mi sembra una cosa vero non l'ho fatto non hai provato a rompere la chiave inglese la chiave inglese ah già c'hai ragione aspetta aspetta lo devo fare e ormai adesso ci fermiamo cioè è un mio vito da fare hai ragione tiene ragione lei allora ecco adesso che ho spaccato la camera della vita quindi non rinascerò più possiamo salutare possiamo salutare e chiudere qui le più sei pure spenta ah no ok pensavo di averla rotta per davvero va bene signori direi perché che per questo video delirante ci si può fermare e quindi se vi è piaciuto il video mettete like se non vi è piaciuto non mettete like iscrivetevi al canale accendete la campanellina per rimanere aggiornati sui prossimi video c'è un tizio che mi viene contro però 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 non 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 Grazie a tutti.